E così finisce la nostra storia. E adesso è ora di dormire. Nonna, ma ora mi lasci sola? Ma non ti preoccupare, ci sono io a proteggerti. E a te chi ti protegge? I vaccini contro il Covid e l'influenza stagionale sono importanti. Proteggono soprattutto le persone più anziane e fragili. Sono sicuri ed efficaci. E puoi farli anche in un'unica seduta. Parlane con il tuo medico.